Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con ETG Marche in onda come di consueto anche sulle frequenze di Radio Center Music 99.100 in primo piano la cronaca come leggiamo anche dal nostro portale etvmarche.it. Una donna ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in mattinata a Corridonia nella zona di Piani Rossi. Per cause in corso di accertamento c'è lo scontro frontale tra un'auto e un camion. Dopo l'impatto la vettura prende fuoco, la donna al volante della stessa viene sbalzata fuori dall'apitacolo e muore poco dopo. È stata allertata anche l'eliambulanza, i medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita ma ogni tentativo è stato vano. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Ed ora cambiamo argomento sul Brexit impensabile solo un anno fa. Le previsioni dei due presidenti del Consiglio, Enrico Letta e Romano Prodi, sono in parte divergenti. Entrambi hanno affrontato il tema nei loro interventi al comitato scientifico della fondazione Aristide Merloni, riunito a Porto Novo di Ancona. Per Letta sembra impossibile che i britannici rimettano il dentifricio nel tubetto e quello che è accaduto peraltro è una vicenda tutta interna ad un singolo partito. I Toris dimostra ciò che la politica racconta è come la politica che decide. Questo quanto è emerso appunto. Ed ora il futuro di Banca Marche. Dunque ci sono le offerte dei due fondi, Apollo e Lone Star, per l'acquisto in blocco delle quattro Good Bank. La terza offerta pervenuta alla Banca d'Italia riguarderebbe infatti le sole società di assicurazioni di Etruria. Avrebbero un valore compreso tra i 500 e i 600 milioni di euro, quanto viene riferito da alcune fonti vicine al dossier. Il bando emesso a gennaio prevedeva la possibilità di cessione distinta delle quattro banche e delle assicurazioni di altre società controllate. Ed ora parliamo di sicurezza perché il prefetto di Ancona, Antonio D'Acunto, ha riunito stamane il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubbliche per esaminare la situazione della sicurezza nel territorio anche a seguito degli attentati terroristici che si sono verificati a livello internazionale. È stato valutato positivamente l'impiego dei militari dell'esercito per vigilare sui luoghi strategici connessi anche al giubileo e il prefetto ha comunicato che l'impiego del contingente, inizialmente previsto fino a giugno, è stato autorizzato dal Ministero dell'Interno fino alla fine del 2016. Ed ora un'altra notizia. Scavalcano la recinzione, attraversano velocemente i binari all'altezza della Frana Barducci, forse per farsi un selfie proprio mentre sta per sopraggiungere il treno regionale diretto ad Ancona. Providenziale è stato l'intervento di una pattuglia della Polizia Ferroviaria che stava facendo dei controlli lungo la linea. I poliziotti hanno immediatamente invertito il senso di marcia e raggiunto i due. I ragazzi non hanno saputo dare una spiegazione plausibile del loro comportamento ma tutto fa presumere che possa ricollegarsi appunto al rischiosissimo fenomeno del selfie sui binari poco prima dell'arrivo del treno. I due sono stati affidati ai familiari. Ed ora andiamo a Pesaro perché ci sono delle novità. Come cambia la raccolta differenziata? Ci spiega tutto Angelica Panzieri. Cambiare la raccolta dei rifiuti a Pesaro è possibile. Basta mandare in pensione i cassonetti delle indifferenziate e ampliare il servizio domiciliare. Questo l'obiettivo annunciato dagli assessori alla mobilità a Ritobriglia e alle attività economiche Antonello Dele Nuci con i responsabili di Marche Multiservizi. Nel primo semestre del 2016 il dato sulla raccolta differenziata in città è del 68% ma lo scopo è raggiungere per il 2017 il 70%. Marche Multiservizi intende stendere innanzitutto il servizio di raccolta porta a porta alle zone di periferia e di mare. C'è poi l'idea che coinvolge anche altri comuni della provincia, ossia quella di migliorare la raccolta nelle sedi pubbliche di grandi dimensioni, come ad esempio le aziende ospedaliere che hanno una produzione di rifiuti urbani molto elevata. Più delicata è invece la questione della tariffa puntuale. L'amministrazione sceglie di attendere il provvedimento legislativo del governo e solo dopo la mappatura dei cassonetti si potrà quantificare se il risparmio sia significativo o meno. Confermato anche l'impegno di Marche Multiservizi per il fondo anticrisi di 70 mila euro a sostegno del pagamento delle bollette di acqua e rifiuti con l'impegno di erogarne 100 mila per il 2017. Il progetto della tariffa puntuale è un progetto a lungo termine. Stiamo provvedendo innanzitutto all'identificazione e a quella che si chiama taggatura, cioè la predisposizione di un rilevatore di posizione e di movimento su ogni contenitore disposto su tutto il territorio dei comuni serviti di Marche Multiservizi. Tutti i nostri mezzi saranno equipaggiati con dei sistemi in grado di rilevare l'attività di movimentazione di raccolta rifiuti ma anche dei servizi svolti come lo spazzamento. Togliendo il cassoletto dell'indifferenziato andremo a incentivare sicuramente i cittadini a fare maggiori tipi di raccolta differenziata e quindi andare sempre di più su una qualità della raccolta maggiore. Vincita milionaria invece a Iesi. Un misterioso super fortunato con un grattino da 20 euro appunto si è portato a casa 5 milioni di euro. Il colpo è stato messo a segno presso il bar Gelateria Pizzeria La Dolcezza nel centro commerciale Cop Gallo d'Oro di Iesi gestito da Massimiliano Lucconi e Samuela Casali. Si tratta di un locale di passaggio dunque non è chiaro se il vincitore sia un oiesino oppure un avventore occasionale del locale. Si è svolto questa mattina nella sede della provincia di Macerata un seminario di approfondimento organizzato dalla CGL sulla riforma costituzionale oggetto del referendum di ottobre. Vediamo. Di sana e robusta costituzione. È stato questo il titolo del seminario pubblico di approfondimento sulle riforme costituzionali organizzato dalla CGL Macerata. Come il Comitato Direttivo Nazionale ha espresso in un documento approvato all'unanimità una posizione particolarmente critica e negativa in merito a questa riforma, ha dato mandato a tutte le strutture di mettere in piedi delle iniziative per dare la possibilità ai cittadini di scegliere in maniera libera senza condizionamenti di sorta. Ad intervenire due relatori d'eccezione. Il professor Luca Baccelli, docente di filosofia del diritto all'Università di Camerino e il professor Stefano Perri dell'Università di Macerata. Infine le conclusioni affidate a Danilo Barbi della Segreteria Nazionale della CGL che ha ancora rimarcato le forti criticità della riforma. La nostra prima opinione è che bisogna innanzitutto discuterne nel merito. Da questo punto di vista critichiamo l'atteggiamento del governo che invece ha voluto fare di una questione come la Costituzione che è la casa comune degli italiani quasi una questione di governo e questo non lo troviamo sbagliato. Quindi abbiamo voluto innanzitutto dire nel merito cosa ne pensiamo. Noi diamo un giudizio critico negativo delle attuali modifiche perché il Senato delle Regioni non ha i poteri per fare il Senato delle Regioni perché non vota mai le questioni che riguardano i poteri e le risorse di regioni comuni. Quindi non si capisce che il Senato delle Autonomie possa essere. L'equilibrio Stato-Regioni del 2001 andava sicuramente cambiato ma qui si passa da un estremo all'alto. Da 19 materie concorrenti a zero e alla fine si rischia di avere una centralizzazione delle politiche sul governo e sul Parlamento, uno svuotamento di tutte le regioni. Quindi qui si è passati da tanti governatori che era un po' una cosa ridicola a un solo governatore, il Presidente del Consiglio. Adesso ad Ancona, taglio del nastro per la nuova piazza Cavour. Tornata la città dopo i lavori di restyling, la piazza centrale del capoluogo ha mantenuto il suo carattere ottocentesco e si pone come punto di snodo per la passeggiata da mare a mare. È prevista anche una copertura wifi libera su tutta la piazza. Dal tardo pomeriggio di oggi sono previste performance con danze, musica e spettacoli in piazza a partire dalle ore 21. ETV Mar che trasmetterà in differita integrale la manifestazione sabato 30 luglio alle 21 e domenica 31 alle 23. Via live l'appuntamento, lo ricordiamo, è per questo pomeriggio e l'evento clou è a partire dalle 21 proprio in piazza Cavour quando cadrà anche l'ultimo velo, quello che avvolge la statua appunto del Conte. Collegamento Università-Impresa per un modo innovativo di fare la spesa. Vediamo come. Il progetto Chef a casa, ovvero questo progetto sostanzialmente si rifà a tutte quelle persone che adorano e amano cucinare in casa piuttosto che andare ad acquistare prodotti già confezionati al supermercato. Tramite sì le ricette e poi la possibilità anche di inserire cosa si ha dentro casa praticamente per poi dopo andare a vedere tramite l'applicazione quale potrebbe essere una ricetta fattibile senza dover necessariamente fare la spesa. È AppChef l'idea di un gruppo di studenti universitari del corso Business Marketing della Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche. Un'idea di sviluppo per analizzare lo scenario di mercato in relazione alle nuove tendenze di consumo. Una buona idea premiata con un tirocinio formativo in azienda, quella del gruppo Gabrielli, che da tempo collabora con l'Università. Un ponte di collegamento tra il mondo accademico e quello delle imprese che contribuisce a delineare lo scenario positivo per la Politecnica. L'89% degli studenti trova piena occupabilità con 8 punti percentuali sopra la media nazionale. Insieme al distributivo sta cambiando moltissimo. All'estero è già cambiato e oggi sta cambiando anche in Italia. Pensate che in molti casi si va ad acquistare nelle grandi città, nelle metropoli con lo smartphone mediante il QR code e poi ti arriva la merce che hai acquistato a casa. Ovviamente noi abbiamo una situazione diversa culturalmente e come caratteristiche del tessuto marchigiano, per cui chi opera qui deve capire l'evoluzione, un po' applicarla ma non stravolgere. E allora anche i nostri studenti stanno orientandosi verso queste nuove applicazioni. In particolare i cinque progetti che sono stati sviluppati dai ragazzi nel corso di business marketing hanno riguardato prevalentemente app e innovazioni nel sistema digitale e quindi la possibilità di utilizzare applicazioni sullo smartphone che consentono o di acquistare di avere informazioni, di entrare in un sistema completamente nuovo. Questa collaborazione consiste in una possibilità di far collaborare con noi all'interno della nostra azienda i giovani che vengono, si lavorano, che sono in procinto di lavorare e quindi hanno l'opportunità in questo senso anche di conoscere l'ambiente di lavoro, il settore della grande distribuzione che spesso e volentieri è un po' trascurato nell'ambito del settore diciamo industriale. In più abbiamo creato all'interno proprio della nostra azienda il Gabrielli Lab che è una fucina di idee dove collaborano e dove vengono inseriti costantemente dei giovani che escono proprio dalla Politecnica delle Marche. Ed ora restiamo in ambito accademico perché anche l'Università Politecnica delle Marche condanna le dimissioni forzate di 1577 alte cariche delle università turche. L'Università Politecnica delle Marche esprime un'anime ferma condanna per le misure adottate dal governo turco a seguito del tentativo di colpo di Stato dello scorso 15 luglio. Allora sentiamo il rettore dell'Università Politecnica delle Marche. C'è stata l'assemblea di tutti i rettori dell'Università italiana a Roma in cui abbiamo preso visione di questa situazione del tutto inusuale in un paese che vuole entrare in Europa come ha diverse volte manifestato la Turchia in cui ha semplicemente dalla mattina alla sera destituito tutte le cariche accademiche dai rettori ai presi delle facoltà, ai direttori del dipartimento, più di 1.500 persone in maniera del tutto autoritaria. Allora questo non è il modo di collaborare. Noi abbiamo collaborazioni aperte anche di mobilità studenti e docenti con la Turchia. Bene, queste attività vengono al momento sospese fin tanto che si riaprono le situazioni di piena autonomia degli Atenei, di piena condivisione delle conoscenze perché l'Università è apertura, l'Università è in qualche modo esperienza che vengono messe a confronto e quindi fin tanto che non ci sarà il recupero di queste attività sospendiamo tutte le collaborazioni ad esempio in ambito Erasmus che esistevano ed esistono ancora presso quel paese. Noi speriamo che questo invito venga accolto dall'autorità della Turchia e quindi che ripristino in qualche modo il modello educativo, il modello di ricerca che la Turchia fino a ieri stava sviluppando. Ed ora un'iniziativa di vino e solidarietà. Un ecografo per la terapia intensiva neonatale per procurare meno dolore ai piccini alcuni dei quali vengono al mondo pesando appena 400 grammi verrà devoluto dall'associazione patronesse al reparto del Salesi grazie alla raccolta fondi di beneficenza avviata a inizio gennaio. Una somma cospicua 8.250 euro è stata raccolta grazie al movimento turismo del vino ovvero le 74 cantine e i 16.500 enonauti che nell'ultima edizione di Cantina Aperte hanno comprato tasche e bicchiere per le degustazioni contribuendo dunque all'acquisto dell'ecografo. Ci serve principalmente per identificare dei piccoli vasi, delle piccole vene, delle piccole arterie che molte volte è difficile, noi diciamo in gerbago medico, incannulare. Serve a mettere un aghetto, serve a mettere un cateterino di plastica per poter infondere i nutrienti o l'acqua che è necessaria per il benessere del bambino. Talora nei bambini molto piccoli è obiettivamente difficile fare questo. Il bambino si muove, gli crei dolore e questo aggiunge il disagio. L'avere un ecografo ad alta risoluzione permette di identificare molto bene il vaso, dove sta il vaso e con una probabilità più elevata andare a infilare questo cateterino nel posto giusto. Attraverso un bicchiere comperato per assaggiare dei vini ottimi delle cantine marchigiane la solidarietà a chi ne ha più bisogno. L'anno scorso abbiamo pensato agli anziani, quest'anno pensiamo ai piccolissimi. Non scordarsi mai di chi sta meno bene di noi. Queste cose ci danno la spinta a continuare il nostro lavoro con sempre più impegno, perché sentiamo che abbiamo delle persone vicine. Intenso weekend sportivo in spiaggia a Pesaro, sentiamo Angelica Panzieri. Cavalcare l'onda, ascoltare la sua energia e sincronizzarsi davanti a un paradiso di sabbia situato a Pesaro in zona sottomonte all'altezza del sottopasso numero 5. È lo spirito lanciato da Soul Sofa Beach, la quarta edizione della manifestazione sportiva di Kitesurf che si terrà a Pesaro sabato 23 e domenica 24 luglio, in concomitanza con gli Adriatic Games. Una scelta fatta appositamente per far crescere due sport, quelli acquatici da un lato e quelli di terra dall'altro. E' quanto afferma il presidente Andrea Farisello dell'associazione Pesaro Kite & Surfing. Si alterneranno diverse esibizioni e dimostrazioni di beach sport, quali kite, sup, surf, crossfit, beach rugby e tanto altro, offrendo ai partecipanti la possibilità di provare gratuitamente le diverse attività. Si stima la presenza di un pubblico numeroso, almeno 2000 persone. Ogni anno c'è una bellissima risposta da parte della cittadinanza, anche dalle zone limitrofi, addirittura dalla Romagna, ci chiedono quando ci sarà l'evento l'anno dopo. Vengono per poter stare dal mattino insieme a noi e insieme ai propri bambini, perché anche chi ha famiglia può venire a portare i bambini. Quest'anno ci saranno i castelli di sabbia, come nell'evento di due anni fa, dal mattino alle 9 fino all'ora di pranzo. E poi se ci fosse evento faremo provare delle apelincine piccoline per la scuola, oppure chiaramente il pomeriggio c'è la classica staffetta gogliardica. Lo sport è sicuramente un ottimo veicolo per divertirsi, per socializzare, stare bene insieme. Non soltanto chi pratica sport, ma è bello anche vedere chi lo fa, lo sport. Era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che trovate le nostre news sempre aggiornate anche sul portale etvmarche.it. Grazie per averci seguita. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.